Ciao e ben trovati a tutti, ben trovato a Coleman Kendal, ciao Kendal, Coleman Kendal, come ti chiedo chiamare? Coleman Kendal, ciao Massimo Intropido, quello o meno difficoltà. Buongiorno. Buongiorno. Però vederci una volta ogni dieci giorni è meglio perché c'è ancora più voglia di stare assieme da parte nostra, o no? Hai fatto una faccia strana Coleman? No, no, c'è un'abitudine di essere qua ogni venerdì e quando manca un venerdì è un po'... Non è venerdì, non è venerdì. Da noi in Italia si dice che quando ti manca un venerdì ti manca qualcosa di normale, per cui noi ce li abbiamo di più i venerdì. Massimo, allora cominciamo da te, da dove cominciamo? C'è la polizia che sta arrivando da Coleman. Sì, sì, sì. Massimo, da dove cominciamo? Da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, cioè volatilità sui mercati, provocata dai timori, timori, certezze di inflazione, paura che le banche centrali aumentino tantissimo i tassi di interesse e poi inizia ad esserci questo problema di cui ho iniziato ad accennare un paio di settimane fa che vedevo cose strane sui derivati americani, mi pare che ci siano grossi problemi proprio sui derivati. La scorsa settimana hanno comprato ben 8 miliardi di dollari di opzioni ribassiste perché chi vende i derivati per copertura rischia di non essere coperto lui e lui si mette a comprarne di altri e si crea il cosiddetto, lo dico in gergo tecnico gamma squeeze, cioè che la volatilità dei prezzi è superiore a quello che tu ti aspetti e quindi tu che vendi coperture contro il ribasso ti accorgi che non sei coperto tu e quindi corri a comprarne anche tu. E questo spiega perché vediamo, adesso poi ti do la parola a Coleman. Tutto questo cosa significa Massimo? Sì, se posso spiegare un po' dal nostro punto di vista, cosa è successo mercoledì era che c'erano i dati dell'inflazione e l'inflazione mese su mese doveva essere meno 0.1, cioè un piccolo diminuzione dei prezzi in quel mese. Invece erano di più 0.1, quindi un piccolo era leggermente un po' più grande di quello che si aspettava e questo per gli investitori ha messo in mente che la Fed va ad alzare i tassi nel prossimo riunione, invece di 50, forse 75, forse 100 basis points. E questo ha messo pressione sui mercati in cui quello che Max stava spiegando succedeva. Ecco, quello che però ci dovrebbe far riflettere è quanto non è tanto il numero assoluto a condizionare i mercati, è la percezione di quella che era l'aspettativa rispetto a quel numero, no? Cioè se noi avessimo detto che l'aspettativa era 12 e usciva 8, probabilmente i mercati avrebbero fatto faville. Ma siccome abbiamo detto, cioè hanno detto, 8 e 3 e poi è uscito 8 e 4, anzi è uscito 8 e 3 uguale praticamente, quindi non c'è stata questa differenza di positività rispetto all'aspettativa, il risultato poi l'abbiamo visto tradotto in crolli sui mercati davvero violenti. Massimo. E poi c'è, per completare il discorso, l'inflazione core, cioè l'inflazione americana tolto alimentari ed energia, è salita ancora, è salita al 6,3 ad agosto rispetto al 5,9 di luglio. Questo è un fatto normale, questo è l'effetto diffusione, cioè prima dovrebbe rallentare la causa e poi rallentare anche gli effetti. Certo, certo. E invece è salito, anche lì secondo me c'è stato così qualcuno che l'alletta male. il vero problema è che ci sono, io sento ogni tanto, guardo su YouTube qualche commento di qualche giovane analista, se non per parlare male dei giovani ci mancherebbe due figlie in età da università, però... Sì, ma qualcuno... Non l'avranno mai visto, cioè, nessuno di queste cose. Esatto. Allora, quando studiavo all'università il 29 in America, io leggevo di società che non esistono più di JP Morgan, lui, proprio c'è ancora JP Morgan. Allora, mi rendo conto che un conto è leggere un libro, un conto è vederlo. E secondo me tanti analisti non hanno visto l'inflazione, no il 29, quello ormai credo ci sia più nessuno che l'ha visto, ma viene in mente quello sketch di Verdone quando faceva quello che era stato insieme a Garibaldi con la sciarpetta e il capellino, ecco. No, ma anche solo l'inflazione degli anni 70, se io dico cosa sono i petroldollari, c'è qualcuno che si ricorda cosa... Noi sì, noi tre sì. Noi sì, noi sì, ma noi... Perché abbiamo i capelli bianchi. Perché abbiamo i capelli bianchi, capito? Quelli che rimangono. Questi giovani analisti... No, siamo fortunati che tutti e tre siamo ancora molto giovani, ma abbiamo ancora i capelli. E dicevo, c'è tutta una generazione di analisti che quando vede dei numeri, per loro sono un po' cartoni animati e infatti scriverò nella nostra reportistica che gli anni 70 sono stati un problema, anche per tensioni sociali, che c'era terrorismo, eccetera. Gli anni 80, con l'inflazione che galoppava, sarà stato Reagan, sarà stato Born in the USA, però abbiamo imparato a convivere con l'inflazione e tutti dicevano che per colpa dell'inflazione il dollaro sarebbe diventato una moneta che valeva meno di quella dell'ultimo paese emergente, è andato a 2680 lire che tutti dicevano basta, il dollaro è troppo forte. Quindi arriva qualcosa che noi abbiamo già visto, tanti non hanno visto e qualcuno sta andando nel panico. Ecco, tanti non l'hanno visto perché l'ultima vera crisi, noi l'abbiamo detto più volte, mentre ammazzo una zanzara volante. E' da te no. Di solito vola. E' da te no. E quindi dicevo, l'ultima vera crisi dal punto di vista di una durata di crisi importante è stata quella del 2007-2009, che è cominciata con la fuga dagli sportelli bancari North and Rock in Inghilterra, era agosto del 2007 ed è finita a marzo del 2009, ma noi ce ne siamo accorti massimo a maggio-giugno del 2009, quando ormai la crisi era passata, i minimi erano a marzo del 2009, ma non lo sapevamo che quelli sarebbero stati i minimi. Quindi sono stati due anni pieni e molte volte, erroneamente, noi parliamo di crisi Lehman, ma Lehman è stato un pezzo di quella crisi che aveva visto. Guarda, io ieri sera, proprio per rientrare in un mood che mi riportasse indietro ad altri momenti, mi sono rivisto, consiglio a tutti di farlo, Too Big to Fail, il film che racconta un pochino tutta la storia di quei giorni, no? E c'è un passaggio che è drammaticissimo, c'è Samuelson con la moglie, che era William Hart, l'attore, con la moglie in giardino la sera prima del fallimento di Lehman Brothers e fondamentalmente lui cerca di spiegare alla moglie perché il giorno dopo il mondo sarebbe fallito, il mondo, ed era il segretario di stato americano che lo stava, che lo stava dicendo, no? Il segretario del tesoro, era Hank Paulson. Hank Paulson. No, non era Paulson nel film, era Samuelson, però il concetto adesso chi fosse fosse era il mood di un mondo che in quel momento stava implodendo su se stesso. Oggi noi abbiamo, mentre oggi la situazione, non dimentichiamo che noi in Europa con le banche stiamo ancora pagando, ieri la situazione un po' quasi di chiusura del Monte Paschi, ma stiamo ancora pagando quei danni enormi. Ma quello che è il senso, Coleman, tu ricordi quei mesi, quei giorni dove centinaia di miliardi sembravano non bastare mai, dove il buco sembrava non si capisse dove potesse arrivare? Sì, sì, no, per dare qualche cifra, per valutare quanto è stato un disastro per i mercati, S&P era 1.500 nel 2007 e marzo 2009 era 666, quindi ha perso quasi 60%. Non è 5% un giorno e basta, ma 5% 12 volte successive e questo di perdere 60% di tutto è una perdita enorme che non si può immaginare. mercato era, cosa era l'S&P al massimo recente? 3.000 qualcosa, deve scendere fino a 1.500 più o meno per tornare a avere una crisi simile e siamo a 3.200, 3.000 livello adesso e non abbiamo fatto niente rispetto a 2.800. Ecco, però la cosa che ci devi far riflettere, tu hai detto il valore di partenza della crisi, quant'era l'S&P? 1.500. Ecco, se noi avessimo potuto investire al valore massimo di partenza della crisi, oggi avremmo fatto quanti soldi ragazzi, no? Cioè, tornando con il senno di poi, noi dobbiamo anche pensare a una cosa e qui chiedo il tuo intervento Max, noi ci stiamo risistemando dal punto di vista dei tassi di interesse rispetto ad una situazione che era anomala prima, noi siamo partiti con l'Euribor a meno zero virgola, oggi chi vuole comprare un BTP può trovare un BTP al 3%, anzi al 4%, oltre il 4%, oltre il 4%, per cui torniamo in una situazione che sembra un pochino più normale rispetto a quello che c'era da quello che c'è qua, sotto certi punti di vista. Perfettamente ragione, si torna a dar valore al denaro, ma infatti c'è stato ieri il minimo dell'oro, il minimo degli ultimi 29 mesi, negli ultimi 10 anni l'oro è stato l'asset class non come singolo indice, come tipologia intera di attività finanziaria che ha reso di più, che non ha senso, ha reso di più perché le obbligazioni sono andate a tasso negativo, tasso negativo è una cosa assolutamente fuori dalla norma. E a proposito del 2007-2008, è durata così tanto e si è perso così tanto perché la gente ha perso fiducia nelle banche, le banche non si prestavano più denaro tra di loro e questa cosa in Europa è finita nel 2011, perché poi la Merkel ha pensato bene di marciarci sopra per altri giochetti suoi. Ma è stata una crisi difficile, abbiamo rischiato veramente di vedere la corsa agli sportelli che c'è stata in America nel 29 e avevamo dimenticato le elezioni del 29, dopo il 1929, poi chiudo perché se no poi finiamo a parlare di Giulio Cesare, proprio perché sono fallite le banche per colpa della borsa, in tutti i paesi è nata la legislazione che le banche non possono investire direttamente o più di tanto in borsa. Questa cosa è stata tolta negli anni 90 perché si diceva beh ma adesso ci sono i controlli e tutto quanto e abbiamo rifatto lo stesso errore. Allora, l'economia e la finanza sono cicliche, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto negli anni 80 per venire fuori da inflazione, crisi energetica, mondo spaccato in due e la cosa è lavorare, cercare nuove soluzioni. Negli anni 80 è nato Just in Time, tutta una serie di cose e anche questa volta con la smart working, lavoro più intelligente, meno sprechi energetici, costruiremo tutti noi, ciascuno nel suo piccolo, il mondo che verrà, perché il mondo che verrà lo costruiamo anche noi. E se posso aggiungere io una cosa? Assolutamente, tu stai parlando, hai parlato dell'87, scusami, scusami, sono seguito, ricordiamo chi si ascolta il lunedì nero quando verse la borsa americana il numero, il lunedì nero c'era il 25% di calo, il lunedì nero 20% in un giorno, sì sì, è sceso da Dow Jones era 2.700 più o meno e è arrivato meno di 2.000, quindi era più di 20% in un giorno, ma per ricordare quello che tu hai detto prima, se avessimo comprato a 2007 Dow Jones oggi 30.000, l'errore di non comprare ai massimi non hanno effetto 30 anni dopo. Sì, perché noi non ci rendiamo conto che se avessimo sfruttato il passato, perché noi diciamo sempre questa volta è diversa, è diversa, è un'altra storia, una volta era il mutuisa prime, una volta era il petrolio, stavolta è il gas, la prossima volta sarà il gatto, non lo so, qualunque cosa sia, però il concetto è oggi dobbiamo decidere se è l'ultimo giorno della nostra vita o se è il primo giorno di una nuova vita, e se uno deve approfittare avendo tempo e diversificando tanto davanti a sé, perché queste sono le premesse di base sicuramente si può guardare al passato per imparare verso il futuro. Io voglio farvi vedere soltanto un grafico, che sicuramente voi avete visto centinaia di volte, però questo ci fa capire cosa. Questo è l'andamento, forse tu lo conosci meglio di tutti, sia Massimo che Coleman, ma questo è il Dow Jones dall'86 fino al 2016. Guardate i tempi di recupero, ma è una cavalcata verso l'alto, no? È comunque una cavalcata verso l'alto. Coleman. Sì, 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 e quando vedi l'87 è difficile trovarlo in questo grafico. Esatto, esatto, esatto. Hai capito? Questo che significa che l'87 in realtà in un grafico di lungo periodo neanche te ne accorgi? Sì. Sì, no, la depressione negli anni venti era una cosa seria perché aspettare 25 anni per una ripresa si deve vivere tanti anni per recuperare i soldi e questo era un vero disastro. Ci sono romanzi di Fitzgerald dove la persona ha comprato dei buns che sono scesi nel valore e ogni anno cerca di vedere quanto sono tornati verso il prezzo che ha pagato all'inizio e deve aspettare di più e di più e non riesce. Speriamo che questo non torna e per questo devo parlare di un'altra cosa. L'altra invenzione dopo 2008-2009 erano i stress test. Almeno qui i stress test sono seri perché se noi permettiamo alle banche di comprare tutta questa robaccia nei mercati devono essere controllate le banche e dovremmo esaminare il balancio e fare questi stress test. Negli Stati Uniti gli stress test sono stati seri. In Europa forse meno seri perché c'erano banche che hanno fatto bene sui test e poi sono andati in fallimento due giorni dopo quindi c'è mancanza nei vostri test rispetto ai nostri. Vedremo come funzioneranno. E noi siamo positivi ai test di solito. Però un'altra differenza, io sono d'accordo sul discorso degli stress test, soprattutto poi quando vengono fatti alle banche tedesche miracolosamente va tutto bene. Ma c'è un altro... Però non dimentichiamo Massimo che la Merkel ha tirato fuori 350 miliardi prima del bail-in. E nonostante dopo e nonostante questo molti hanno l'impressione che non bastassero. Detto questo c'è un'altra differenza fondamentale ancora a vantaggio delle banche americane. che le banche americane quando comprano titoli tossici o presunti tossici o titoli che non si pensava che fossero tossici ma diventano tossici, loro impacchettano dentro a dei prodotti finanziari e vendono subito. Adesso stiamo cominciando a farlo anche noi in Europa ma ci siamo svegliati in ritardo e poi soprattutto c'è un sistema secondario di gente che compra gli NPL, cioè i crediti deteriorati, gente che compra bond ad alto rischio, gente che compra bond illiquidi, c'è tutto un sistema secondario di hedge fund di queste istituzioni. Alcuni di loro falliscono ma ne arrivano altri che in Europa da noi non ci sono. È da poco nato il mercato per esempio in Italia degli NPL, no? Le società manco se stai il nome. Il Limiti ad esempio ha costruito sui nostri longs una banca con Corrado Passera, però sono anche segnali di menti che sanno guardare al mercato e stanno cavalcare anche delle situazioni che altri non riescono a cavalcare. Era un mondo diverso perché da noi quando noi abbiamo avuto tante banche che hanno avuto gravi crisi, basta pensare a quella del Banco di Napoli, ma lì c'era la Banca d'Italia che interveniva e soprattutto le banche piccole quando proprio c'era un manco di capitale che dovevi chiedere dieci volte il suo valore, faceva in modo che qualche grande banca comprasse questa piccola banca, in modo che il grande buco per la piccola banca fosse un buco gestibile per la grande banca. Adesso tutto questo non si può fare, bisogna passare dal mercato e in Europa si è voluto che si passasse dal mercato dei titoli tossici e delle banche in difficoltà quando il mercato ancora non esisteva. In America invece è tanto tempo che esiste il mercato per queste cose. Io voglio farvi vedere però quello che scrive una nostra affezionatissima telespettatrice, diciamo così, visto che siamo comunque in un riquadro televisivo, perché credo che quello che scrive Emilia ci debba far riflettere moltissimo. Bisogna essere dei maghi per investire nel momento giusto con la borsa attuale. Cioè io questa frase la prenderei Emilia e la metterei a caratteri cubitali, al centro di una città, perché secondo me bisogna essere dei maghi sempre per investire nel momento giusto. Perché non so Massimo, tu puoi indovinare il trend e non sempre poi ci becchiamo, no? Possiamo indovinare il momento di mercato positivo o negativo, ma è il momento giusto per investire. Ma io semplicemente in cinque secondi dico che questo è un buon momento per investire, proprio perché ci sono tutti questi timori, alcuni di quali non si realizzeranno, ma non è detto che sia il migliore in assoluto. Cioè i mercati potrebbero scendere ancora, quindi non sparate tutte le vostre munizioni. Pack, 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 accumulazione, accumulazione. Voglio farvi vedere a proposito di percezione un grafico che arriva da un blogger americano che è andato a calcolare la percezione dei investitori rispetto all'andamento dello standard and poor 500, a seconda che questi siano presi in mezzo dalla comunicazione di giornali, quindi è colpa nostra Massimo, visto che da poco sei diventato anche tu una firma giornalistica, oltre che un analista affermatissimo, però il concetto è questo. Guardate, ve lo faccio vedere direttamente, perché così è ancora più interessante. Ecco, guardate qui, la curva nera è lo standard and poor 500, il pallino arancione è la percezione che ha del valore dello standard and poor 500 una persona che ha letto stamattina tutti i giornali americani, italiani e così via. Se invece va anche sui social e non gli capita il culo, scusate il termine, di beccare noi tre, la situazione è ancora più distante. Cioè, questo clima di percezione eccessivamente negativa o eccessivamente positiva nella dimensione opposta, se torniamo indietro nel grafico si vede anche la situazione opposta e l'influenza della comunicazione oggi è notevolissima, no? No, guarda, tienilo da parte questo grafico, ogni tanto lo faremo rivedere perché è interessantissimo. Questa è proprio la perception, cioè quello che la gente pensa e come funziona così per la per la borsa, funziona così per l'inflazione, funziona così per la disoccupazione, funziona così per tutti quei fenomeni economici che riguardano tanta gente, c'è sempre un divario netto tra la percezione e il dato vero. Quindi tienilo da parte questo grafico, ogni tanto lo faremo rivedere. Vi posso chiedere una cosa rispetto a questo grafico? Lo chiedo a te anche Coleman e poi naturalmente questo grafico può essere interpretato con la parola anche fiducia, cioè quando noi viviamo un momento come quello della percezione attuale, un momento in cui la fiducia probabilmente nel sistema è ai minimi termini o eccessiva nel momento in cui la situazione è opposta, ma sta di fatto che le persone oggi, a differenza per esempio della crisi del 2008 che abbiamo citato prima, che per avere notizie bisognava aspettare un telegiornale o cercare un radiogiornale. Ricordate, no Massimo ci siamo conosciuti proprio in quel periodo. C'era il televideo, c'era il televideo, no? Ma quello era il Massimo, però era tutto on demand. Ma già eri avanti se avevi il televideo, già eri avanti. Mentre adesso tu sei sottoposto ad un tambureggiante rumore di fondo, fortemente negativo, che giustamente un mio amico CEO di una banca importante, non la cito per non fare pubblicità, ma ieri ha detto una cosa bellissima secondo me. Ha detto come noi ci nutriamo male e quindi il nostro corpo cresce male se noi mangiamo cose che non sono buone dal punto di vista alimentare. Anche il nostro spirito, no? La nostra anima, il nostro modo di pensare, se lo alimentiamo esclusivamente con notizie negative facciamo fatica poi a vivere bene le nostre giornate. Scommetto che è un mio omonimo quel CEO. No, 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 non è un tuo, no? Omonimo ma la struttura è da me. Non è lui, non è lui. No, ma è importante avere una buona dieta giornalistica e anche avere un senso di continuare a fare una cosa quando si fa l'investimento. Non è una cosa che si fa una volta nella vita e si mette i soldi e si aspetta. Quando si lavora, si lavora ogni mese, anche i mesi, forse voi non nell'estate, ma molti mesi e vai ogni settimana al lavoro perché pensi che è meglio andare lì che non andare. Deve essere lo stesso nell'investimento in programma che fai ogni settimana. Forse cambi un po' l'allocazione delle tue risorse nei momenti estremi, ma deve deve essere avere un dietro regolare e poi avere un programma regolare sia per fare l'esercizio, sia per lavorare, sia per investire. Massimo, che ne pensi? Sì, infatti uno dei modi per perdere soldi in qualunque mercato, non solo in borsa, bitcoin piuttosto che oro, perché poi vale anche per l'oro comprato oltre i 2000 dollari l'oncia, cioè se investi quando è di moda prima o poi perderai perché diventa di moda quando il valore sale e ne parlano in prima pagina i giornali, ma a quel punto sei nel cosiddetto ipercomprato, no? Allora se tu investi quando è di moda sicuramente perderai. Se tu investi quando tutti ti dicono che sei pazzo, sicuramente vincerai. È molto difficile essere il contrario. È difficile, infatti c'era quel trader giapponese inesistente, è stato creato ad arte, però gli sono state fatte dire le cose giuste, Mneisa Oma, che diceva quando tutti vendono tu dovresti comprare. Farlo è come entrare nel fuoco o gettarsi nel mare, però è la cosa giusta da fare. Quindi tu, migliori affari li fai quando tutti ti danno del pazzo. Quando tutti comprano quella cosa lì, tu non la devi comprare. Ecco adesso vi faccio vedere un'altra grafica, è una tabellina in realtà, che ci fa capire un pochino come funziona l'inflazione, no? Ne parliamo tante volte. Vediamo un po' di numeri americani. Allora, guardate, qui abbiamo la colonna del 1975, quella del 2019 e quella del 2021. E vediamo come una new house, pronunciato bene, Coleman? Una casa nuova. New house, sì, io posso. Vai, 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 commentala tu che sei americano. New house si vede che è 48 mila, 40 anni fa, adesso 10 volte di più. L'università privata forse 25 volte di più, 20 volte di più. Ma cosa c'è d'altro? Anche andare al cinema, i movie ticket da 2 dollari a 18 cento. Il movie ticket è 2 dollari a 19 cento da 9 volte. Le uova sono 72 cento. Poco, esatto. E anche il poster stem, cioè il francobollo postale, voi che fate la collezione, è aumentato solo 4 volte. Ragazzi, io ho smesso di fare la collezione di Franco Bolli il giorno in cui un signore mi disse, fai la collezione degli sputi degli altri? E lì ho smesso. Guarda che ti prendi dei brutti commenti. No, invece volevo commentare il sovrappeso di cui soffrono molti americani perché voi prezzate il latte al gallone. Come fai a bere un gallone di latte tutti i giorni? No, ma per le grandi famiglie di 3-4 ragazzi si comprono un gallone. Si comprono un gallone. Un gallone di 4 litri. Ma noi abbiamo i fratelli. Non li bevete tutti in un giorno, eh? No, no. Io non ho mai comprato in casa un gallone di latte. Io amo tanto il latte che secondo me un gallone non l'ho bevuto in tutta la mia vita, per cui... Male, male, male. Si vede vedere il latte italiano. Male, vedi? No, no, no. Non mi piace il latte. Che devo fare? Non mi piace. Nel latte e nelle uova. Dammi un piatto di pasta asciutta e me lo mangio volentieri. Allora, parliamo un pochino dei problemi però perché noi stiamo cercando di analizzare un po' la situazione e cercando di portare un po' di luce, se possibile, in questo mondo abbastanza buio. Siamo in una brutta situazione economica finché la comunicazione europea non mette un freno al tetto del gas e della luce. Allora, il fatto che non si mettano d'accordo, Massimo, è un brutto segnale dal punto di vista quantomeno dell'unità di intenti, no? Che poi se il prezzo deve essere 2, 10, 20 o 50 questo è un altro paio di mani. Sì, ma adesso anche il congresso americano sembra che si muova ma ci sono resistenze perché loro vorrebbero fare il tetto, poi ce lo spiega Coleman, però solo al petrolio russo. Per quanto riguarda noi, l'Unione Europea riesce sempre a fare brutta figura anche quando non ce n'è motivo perché mettere il tetto al prezzo del gas e del petrolio è difficile, nessuno sa se riusciremo. Si riesce a litigare anche su una cosa che non si sa se è realizzabile oppure no. Cioè ci sono paesi, e guarda caso sono i paesi del nord, che riescono sempre a fare la figura degli egoisti anche su cose che non è detto che si riescano a fare. Ma vorrei sentire Coleman su questa questione che volevano mettere già anche gli investimenti più spesa per nuovi investimenti ecologici in questa finanziaria, però alcuni non vogliono. C'è molto movimento su tetto di prezzo e altri investimenti green da voi, perché anche da voi tra un po' c'è la finanziaria, eh? Sì, noi abbiamo il budget del governo che scade il 30 settembre, quindi in due settimane, e il governo deve approvare un budget, ma non lo faranno, quindi faranno un cosiddetto continuing resolution di continuare a fare quello che hanno fatto l'anno scorso con piccoli aggiustimenti. E fanno così da 20 anni, non fanno più il budget. Esatto, esatto. Ma detto questo, da noi il petrolio sta scendendo, il prezzo di petrolio, e una delle cose che ha ridotto la nostra inflazione un po' era che i prezzi della benzina è scesa da 5 dollari al galone, sempre galone, perché questo… L'importante è che non la beviate la benzina, perché… Sì, sì, non lo beviamo, ma lo compriamo in galoni, perché la macchina prende 10-15 galoni, dipende dalla macchina, cioè 40-60 litri. e c'era un accordo per fare un tetto sul petrolio russo, sopra il quale non potevano fare assicurare le barche che portavano questo petrolio, ma visto lo stato del mercato di petrolio non avrà un grande effetto, perché il mercato di petrolio è più o meno 90-100 dollari al barile, cioè 25 galoni, o no, 20 galoni credo, e questo vuol dire che non ci sarà bisogno di fare questo accordo. E poi c'è la… scusami solo Leopoldo, scusami solo una battuta, a livello di lobby c'è la par condicio, perché la lobby del gas è democratica, la lobby del petrolio è repubblicana, quindi ognuno difende i suoi interessi e c'è la par condicio lì. Sì, no, no, ma il problema da noi, per voi, è che non abbiamo abbastanza impianti per liquefare il gas qua per mandarlo da voi. Possiamo mandare il gas da voi, tanto che possiamo mettere in forma liquido per mettere su una barca per trasportare. Sì, ma da noi non vogliono fare… Tu e Massimo hai ricordato che tra un po' il gas russo, scusate, il petrolio russo, entra in zona embargo, no? Non potrà essere più acquistato. 5 dicembre dovrebbe essere. Non può essere più acquistato dall'Europa. Emilia Credendino ci dice, apertura Wall Street, no comment. Massimo, che sta succedendo a Wall Street? Vado a vedere perché… Vediamo in diretta con te. Dow Jones è meno 1,19 vedo e Nasdaq a meno 0,93, sì. Sì, c'erano notizie da FedEx che erano importanti ieri sera. FedEx è quello che ci manda i pacchetti e FedEx è molto convolto nella distribuzione nazionale dei pacchi. Quando ordini una cosa da Amazon, spesso c'è FedEx che ti porta da te e loro dicono che non faranno lo stesso numero di trasporti che facevano il trimestre passato. Quindi tutti credono che questo indica che c'è un rallentamento dell'economia. però c'è una soluzione per far ripartire i pacchetti. Basta chiudere la gente in casa perché poi se noi misuriamo il numero dei pacchetti in funzione di quante persone erano chiuse in casa, forse dobbiamo dire che quei numeri erano esplosi soprattutto nell'anno del lockdown in maniera pazzesca o mi sbaglio. No, è perfettamente corretto quello che dici. Tante statistiche in questi anni sono un po' falsate e quindi sono tutti dati da prendere con attenzione. Dopodiché, se consegnano meno, consegnano meno. Cioè non è che noi possiamo dire che non è vero. Per esempio, in Italia le vendite di auto sono aumentate ad agosto, ma sono auto che non sono riuscite a vendere prima. Non è che adesso tutti ad agosto sono andati a comprare l'auto, capito? E i prossimi mesi saranno tutti così. Cioè noi dobbiamo ancora fare un anno pieno senza lockdown, noi e soprattutto senza lockdown la Cina. Ecco perché dico che possono venire delle buone notizie dove meno aspettiamo, così come possono nascere nuovi cigni neri. Perché c'è tutta una situazione di cose che tutte insieme così non le abbiamo mai viste. E per questo le previsioni sono molto importanti. Tu hai detto che l'importante è la differenza tra il risultato e la previsione. E se la previsione non è ben fatta, se la previsione è sbagliata, di uno che non capisce come funziona il sistema, le previsioni sono sbagliate e quindi quando i risultati sono un po' meno di quelle previsioni tutti fuggono dai mercati. Ecco, per esempio, il numero che abbiamo citato in apertura di trasmissione, tu hai toccato un tema da un'altra angolatura, sempre molto interessante, vengono fuori discussioni. Ecco, il numeretto atteso dell'inflazione americana. Chi lo fissa? Quello atteso. Ok, questo viene, fanno un sondaggio di dieci analisti dalle banche, eccetera, che ognuno dà la loro previsione e fanno un tipo di media delle previsioni che vengono da tutte le banche. Ma, detto questo, se tu fossi di una banca assai cinica, forse mettresti una previsione un po' storta per influenzare la media delle previsioni e poi per guadagnare… Con quel bel 5 meno, ecco, la cosa bella che ho visto è che con quel 5 meno del Nasdaq, con quel 4 meno dell'S&P, l'altro giorno, se non sbaglio, sull'S&P non c'è stato neanche un titolo che ha chiuso in territorio positivo. Tutto rosso era. Infatti lo dicevano anche a me quando ho iniziato a fare l'analista, ero in un ufficio studi e mi dicevano, nell'incertezza va tutto bene, gli anziani. E ho detto, come va tutto bene? Io devo cercare di capire se va male. Eh no, mi hanno detto, guarda, meglio un ottimista sfigato piuttosto che un menagramo che ci prende. Assolutamente. Tant'è vero che i menagrami poi continuano a diventare menagrami tutta la vita, prima o poi azzecca, no? Ne conosciamo un paio dal punto di vista. Non facciamo nomi perché siamo tutti a me. No, 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 che porta sfiga. Porta sfiga. Però vi voglio far vedere una cosa. Prima stavo parlando del petrolio. Dicevamo, il 5 di dicembre, come sottolineavi tu Massimo, dovrebbe partire l'embarco. Però guardate questa nota che vi faccio leggere. Magari se riuscite... Ce la traduci tu, Coleman, così almeno la gente capisce. Ma è malo, sì, veramente malo, ma è in catastrofe? Forse no. La Russia può rivendere il gas in Europa per Cina. No, la Cina ha comprato 2 milioni di ton di gas di tonnellate. L'Europa ha comprato 70 milioni di tonnellate nel 2021, quindi la Russia vende in Cina il 5% di quello che aveva comprato l'Europa. Ecco, questo è quello che sta succedendo sul gas, ma è quello che sta succedendo anche sul petrolio. L'Europa sta comprando petrolio dalla Russia in questo momento a mani basse, perché sanno che poi dal 5 in poi non possono più comprarlo. Allora, quando noi ci chiedevamo, Massimo, ricordi, ma perché fai la sanzione sul petrolio, la decidi a... cos'era, maggio? E la fai partire il 5 dicembre? Perché prima devi rifare le scorte. Però ti sembra normale? Ma come ti dicevo, e vedo che anche Coleman è d'accordo, non sappiamo se riusciamo, non sappiamo se funziona, non sappiamo se il tetto che verrà messo funzionerà. Quindi entriamo in un campo inesplorato, perché negli anni 70 erano gli arabi che non ci volevano vendere il petrolio, perché eravamo amici di Israele. Adesso siamo noi che non vogliamo comprarlo, è l'altra parte del bancone del negozio. E stiamo entrando in un campo inesplorato, quindi appunto, come diceva Coleman, è particolarmente critico fare le previsioni, e però mai come in questo momento la gente anche del mercato si aggrappa le previsioni. Quindi il sistema rischia di alimentarsi da solo nell'isteria, nella paranoia. L'unica cosa che mi chiedo eticamente, io metto una sanzione contro uno Stato, e prima che quella sanzione parta, io compro da quello Stato tutto il possibile e immaginabile. Magari gli do anche qualche liretta in più, liretta, euruccio in più, o rublo in più, o un anno in più, decidete voi quello che gli volete dare, perché altrimenti non me lo dà. E poi a un certo punto mi incazzo e chiudo il 5 di dicembre. Ragazzi, è proprio fuori la relazione di Dio. Si può dire dicembre in televisione? Dicembre credo di sì. Va bene. Dicembre dobbiamo dirlo a dicembre, perché noi siamo ancora a settembre. Abbiamo tre mesi per arrivare a dicembre. Allora, Coleman, come chiudiamo oggi? Come chiudiamo? Siamo in un periodo difficile per la Fed, perché, come ho detto qualche settimana fa, la Fed vuole fare la gente non pensare dell'inflazione. L'idea era che la gente sarà disinteressata nell'inflazione, perché la Fed l'avrà eliminata del pensiero. E questo può succedere, ma questo richiede alla Fed di fare tanto per alzare i tassi per ridurre l'inflazione. E quindi la Fed ha tanto lavoro da fare, non soltanto a questa prossima riunione, ma nel futuro. E questo avrà un effetto su tutti i mercati, sia dell'euro contro il dollaro, sia nei bond americani, eccetera. e credo che, almeno fino adesso, la gente non credeva nel Paolo quando aveva detto questo. E vedremo, perché ci sono due possibilità. Sia che Paolo è serio e lui continua in questo modo, sia che ha esagerato e forse quando ci sarà troppo pressione dai mercati, lui cederà. Non è stata una reazione troppo forte, quella dei mercati, considerato lo scarto minimo tra attesa e il risultato reale dell'inflazione, Coleman? No, è stato, come Max ha detto, c'era questo effetto dei gamma squeeze, eccetera, che ha esagerato l'effetto di una piccola differenza tra i dati che dovevano essere e quelli che sono arrivate. Ma il problema è che il mercato sta cercando di capire bene Paolo e non sanno ancora quanto serio è quando parla in questo modo, quando parla di Volcker dell'anni 70, di mantenere i tassi alti per un tempo lungo, perché se pensano che lui va a finire a 4% e basta, lui deve fare di più per essere d'accordo con quello che ha detto. Massimo, riusciamo a dare una risposta al nostro amico Stefano? Ma allora, Generali ha fatto varie missioni, ha fatto anche dei bond subordinati che nei prossimi anni diventeranno a tasso variabile, però si rischia che poi magari in futuro, quando il tasso diventa variabile, i tassi inizieranno a scendere. Io però penso a una cosa, non usciremo da questa fase nello stesso modo in cui siamo entrati. Per chi studia la storia, questa è una regola banale, questo succede sempre. Siamo già diversi completamente, no? Se non usciamo con lo stesso mondo di prima, con la stessa globalizzazione di prima, è possibile che da adesso in avanti per 10 anni l'inflazione sarà più alta mediamente di 10 anni prima. Quindi comunque una parte di bond a tasso variabile in portafoglio bisognerà averla. Prima era una roba che se te la proponevano non buttavi giù il telefono. Adesso sarà importante farlo, perché shock inflazionistici limitati potrebbero arrivare ancora, perché poi l'inflazione, quando raggiunge un certo livello e tutti si abituano, farla tornare giù è difficile, perché poi la gente, non dico non ci fa più caso, si impara a convivere. Quindi credo che da questo punto di vista il mondo sia cambiato, o che avremo sempre l'11% e il 9%, ma che arriveremo alla deflazione in Europa come in Giappone non so se tornerà così. Allora, guardate, questa è la situazione dell'incidenza dell'energia sull'Europa, dati Eurestat, per quanto riguarda l'inflazione. Se dovessero trovare una soluzione, quella barra così lunga sull'energia abbasserà immediatamente il suo peso sull'inflazione e l'inflazione quindi tornerebbe ad un intorno molto simile a quello francese, dove non ci sono grossi problemi. Ma può succedere che l'anno prossimo, se tu fai il calcolo anno su anno, l'anno prossimo l'energia sarà più bassa degli altri settori, perché se gli altri settori si sono mossi dopo, è il famoso giochetto del su che anno fai, è come quando dicono nel calcio, nell'anno solare lo Scudetto l'ha vinto quella squadra lì. E ho capito, ma conta chi è in testa di Stato. Conta chi vince lo Scudetto quando devi arrivare. Scudetto, quindi è l'effetto statistico. A proposito, dopo domani sera... A proposito, Cristiano Ronaldo, cosa è successo? Cristiano Ronaldo. Non l'abbiamo preso, perché abbiamo comunque quel magnifico Varaschelia che domenica sera dovrà fare la sua parte a San Siro, perché non c'è Osimè, e non c'è Leao, quindi sarà una bellissima partita da armi pari. Vediamo che cosa succederà. Dai, magari ci colleghiamo da San Siro domenica sera, facciamo una diretta da bordo campo. Io ho capito una cosa. Io invidio Coleman, perché da loro il calcio è uno sport secondario, e quindi mi sembra che da voi con ESPN, ma solo se sei l'IP americano, tutto il campionato italiano costa 5 dollari al mese, mi sembra. Ecco, però noi ci abbiamo da Zon che quando segna il giocatore di una squadra, a casa tua segna il trentacinquesimo, a casa mia il quarantaduesimo, a casa di un altro il cinquantaduesimo, perché non sono mai allineati, perché le connessioni sono sempre quelle che sono. L'altra volta non riuscivo a vedere una partita, ogni tanto c'è il cartello scusate, ci sono problemi tecnici. Noi questa cosa l'abbiamo vista con uno dei primi partiti visto attraverso internet. Italia-Australia dei mondiali, rigore di Totti alla fine, tutto il palazzo esultava e noi vedevamo lui che metteva il pallone sul dischetto. Io la finale degli europei dell'anno scorso, che avevo Sky qui a casa, mentre gli altri nei palazzi a fianco la vedevano alla Rai, c'era un ritardo di quei dieci secondi che mi ha fatto perdere tutto il gusto dei calci di rigore, perché sapevo già come erano finiti dal boato. Però dicevo, oggi ho compreso una cosa, se mai ce ne fosse bisogno. Massimo, tu hai detto in apertura una cosa molto importante relativa ad un fenomeno su alcuni titoli americani, soprattutto sui derivati, che ha ripreso quasi fosse una cosa normale Coleman in chiusura di questa trasmissione dicendo che il mercato è sceso perché c'è stato quel fenomeno di Massimo. No, il fenomeno nel senso che è quello che tu hai descritto. Allora, capite, io non so quanti di quelli che scrivono qui è difficile, è facile. Ecco, è difficile o facile? In questo caso ci vogliono delle competenze che non tutti hanno, delle analisi e delle capacità di analizzare anche certi fenomeni, perché certi fenomeni esistono. Allora, torniamo al calcio per un istante. Ci sono quelli che dicono che una squadra ha vinto perché hanno fatto un 4-2-4 per 20 minuti, poi hanno cambiato 5-3-2, eccetera. E c'è un altro che dice che c'era un rigore al novantesimo minuto e hanno vinto per questo. E chi ha ragione in questo? Ha ragione, come diceva Boscov, è gol quando arbitro fischia. Il rigore è quando arbitro fischia, sì. Quindi quello che conta è quello che decide l'arbitro poi alla fine della partita, perché è lui che scrive il cartellino. Però dicevo, effettivamente Massimo, quello che tu hai raccontato all'inizio della trasmissione, che probabilmente era passato quasi sotto traccia se Coleman non l'avesse ripreso alla fine, ci deve far comprendere quanto è complicato. Non è una cosa per tutti fare analisi di mercato così random. Io mi chiedo, ma perché io compro un titolo invece che un servizio, che sia un ETF, che sia un fondo di risparmio gestito, no? Penso di essere più bravo del mercato. In fondo, tutto sommato, penso che se compro Tesla faccio meglio dell'indice Standard & Poor's, che se compro, che ne so, un altro che sta nel Russell 2000, che se compro Generali faccio meglio dell'indice... E allora, è una presunzione assurda, no? Se ci riflettiamo. No, no, ma ci sono due approcci che uno è di pensare è molto difficile di essere più bravo di tutti quelli altri nel mercato, ma l'altro è di scegliere il livello di rischio, perché si può scegliere un approccio che prende più rischio e quando i tempi saranno buoni farà di più, ma quando i tempi saranno cattivi perde di più. Allora, ci sono varie scelte che si fanno. La scelta di, forse di non giocare contro il mercato, ma anche la tolleranza di rischio e si deve, si può utilizzare queste due scelte per fare il suo portofolio. Ecco, stiamo chiudendo, però questo tema potrebbe essere anche importante, no? Sì. Le elezioni, le prossime elezioni. Ma sai, anche lì se uno legge i sondaggi e i commenti in teoria un certo tipo di risultato dovrebbe essere stato scontato dai mercati anche perché sia la Meloni che Forza Italia hanno detto che non aumenteranno il debito pubblico. Forse. Forse. Potrebbe anche non succedere niente. L'ipotesi di scorta, cioè che chi vince non riesce a fare il governo, è l'aiuto necessario dei partiti di centro i quali hanno già pronto un Draghi Bis, quindi questo è un discorso che faccio indipendentemente dalle simpatie personali. Quindi, se chi vince ha già detto che non va fuori dai parametri di Bruxelles, a voce, e se lo scenario peggiore è che torni Draghi, se mi parli del mercato e forse anche dello spread, potrebbe anche non succedere e non succedere poi molto. Quindi, penso che questo poi sai, non salirebbero così tanto come sono salite quest'anno, questa settimana le banche. Perché le banche avendo in pancia i BTP e poi dovendo scontare eventuali recessioni sono un bel baron. Quindi, credo di no. Io credo che veramente ci sia un problema di pover iperreazione del sistema negli Stati Uniti. Io vedo sempre le cose più strane le vedo succedere sul Nasdaq che è quello che amplifica la volatilità. Coleman potrebbe dire vedo cose strane anche sull'S&P 500. Diciamo che Nasdaq amplifica questo, no? Perché è più basato sulle aspettative future in quanto non ha solo titoli tecnologici ma ha per lo più titoli tecnologici e titoli che anche quando non sono tecnologici sono, non dico start-up ma società che stanno crescendo. Quindi, a me sembra che il problema sia in America in questo momento come borse. Però vi sembra normale che su TikTok giri quello che chiamano, loro non lo chiamano app, quelli che girano su TikTok, adesso non mi ricordo come, effetto, giri un effetto a cui, rispondendo a dieci domande, vi esce scritto alla fine per quale partito voi siete ideali nel votare. ecco, per cui, io l'ho fatto e è uscito tutto sommato il mio ideale, me l'aveva detto, me l'ha fatto notare mia figlia che è uscita dall'altra parte. Posso fare una battuta? Posso fare una battuta? No, ma mi sembra veramente allucinante. Se non me l'ha fatto è uscito Achille Lauro, ma non... Achille Lauro, quello della nave? Lo dico a Coleman e a quelli che non lo sanno, Achille Lauro quando si candidava nella campagna elettorale dava una scarpa, poi se veniva eletto dava anche l'altra scarpa. Achille Lauro quello della nave o quello che cambia? Quello della nave, sì, sì, quello che dava una scarpa alla volta durante la campagna elettorale. Sì, no, ma io direi per le elezioni la cosa più importante come Max dice è dopo le elezioni perché già i risultati sono più o meno scontati ma se qualcuno dice una cosa dopo le elezioni può avere un grande effetto sul mercato. Esatto, esatto. Sapete cosa mi sta facendo riflettere sul fatto, poi magari è una mia idea, che potrebbe non essere così scontato. Se ad uno che vota oggi sembra che il centrodestra abbia stravinto le elezioni, se fosse oggi i sondaggi dicono questo. Ecco, però, se voi chiedete ad un elettore del centrodestra, per chi voterebbe oggi direbbe centrodestra. Però, siccome c'è tanta incertezza per quanto riguarda quello che la politica italiana in questo momento rappresenta, anche chi ha un ideale rischia di non votare e questo potrebbe essere un punto che potrebbe cambiare completamente l'andamento dei mercati. Non dimentichiamoci un'altra cosa, l'incidenza dell'influenza esterna sulle elezioni. Perché noi le abbiamo sempre avute, le influenze americane, russe. attento a te. Ora, con la tecnologia, con la tecnologia e la digitalizzazione, soprattutto, con l'informatizzazione di quasi tutti i sistemi, io alzo le mani e torno a parlare di quel signore che si chiamava Isaac Asimov, che invito a leggervi. C'è un bellissimo, un bellissimo racconto degli anni 50 di Isaac Asimov che si chiama Diritto di Voto. e c'era un computer Multivac si chiamava che negli Stati Uniti sceglie per caratteristiche umane, di genere, di età, di sesso, di tutto quello che è un unico elettore. E quindi vanno a casa di questo elettore con la scheda elettorale e dice dove la metti la crocetta? Ecco, forse arriveremo anche noi a questo. Stiamo arrivando alla società liquida, allo sharing dove tutto è di tutti, dove tutto è di scambio. Però vediamo, non scambiate troppe cose. Però il concetto il concetto è proprio questo. Stiamo attenti perché tutto quello che è scontato Massimo e poi lo vediamo tante volte anche nei nostri racconti scontato poi alla fine non è. Per cui staremo a vedere e noi lo staremo a raccontare. Ciao Coleman, ti aspettiamo a Milano allora. a Milano la settimana prossima. Ecco, comunque, ciao, ciao, anche a Massimo. Tra due settimane, hai detto arrivare. Sì, arrivo, poi sparto, poi torno. Ah, ti godi l'Italia. Ti godi l'Italia. Allora, facciamo così, organizziamo, per quando c'è Coleman, un bel aperitivo in centro a Milano, in diretta, e tutti quelli che vogliono venire vengono a farci le domande dal vivo. Facciamo così, ragazzi? Così facciamo una cosa simpatica e stiamo tutti quanti assieme, tutti quelli che sono a Milano, naturalmente, poi faremo un turno, quando mai. Però, intanto a Milano lo facciamo. Ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti. Ciao, 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 ciao,